musica la porta allora sono chiuda perchè non hai pensato che si fa lo scarto e non si è apportato e non è un'altra cosa che cosa è? che cosa è? della casa cosa è? ragazzi vai contattere dai due poi andando senza potenza uaaaaa questo siamo in corazia questo è mattia mora il nostro matteo questo è il nostro palazzo la canzone eeeh eeeh eaaaaa bellaaaaaa eaaaaa ah ai largo muò andremo attiva minestra sinestra Andiamo sull'amore! Andiamo sull'amore! Andiamo dalla testa! Ima puto mi sonata con il trattore! Andiamo a tenere il caperino e vai! Ha sotto il maio di viva di romano? Sto molto giallo! Lascia! Nerva! Oh, è una azucca! Non vene il baisa! 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 Non vene! Non vene! Dopo mi troche! Non vene! Ti ho spaccato che piazza! Non vene! Calcio Wilson! Viva Wilson! Viva Wilson! Teso de cazzo! Teso de cazzo! Teso de cazzo la mia macchina! Teso de cazzo la mia macchina! Ok! Tua! Non si coi! Ma! Se è qui in corrida! No, papà mia! Mattia! sei una curata! Si Bocchini! Come è l'amica frizzi? Vai Mattia! Uuuuuh, mona! Va cajare! Niquel divano faceva ser spuntale quasi! Nando! Vai mettiali le fighoni che non fa un cazzo la mia macchina raw! Vai da! e io ho fatto il corsa ma c'ho di appoggiare Mattia e vai Mattia il giardiniere il giardiniere che dà e dà e il nostro Matteo invece guarda il nostro panino secca e vai Nando che lavoro Nando c'è non so che lavoro fa ma nome c'è vende alcuni via Trento ah cazzo te mi rubi davvero e Mattia cerca di fare una resciata che non arriva ma qualsiasi stronzata che faceva struppa il pallone dietro un angolo sbaglia il nostro Matteo guarda e dice quanti panini che potremmo fare arriva Nando se fa male spacca l'alto Matteo fa danni come sempre passaggio danni ma fa un dei metri fanno ah si dei ah si è mona tanto il ciranus è mio ah Matteo eh se cazzo segui quella telecamera ah ah si sono basso caffa si tappo no se queste due ballano seguo gli altri eh ah 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 se vedi bene la cazzo eh se sono nocchia spacca tutto si 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 qui stai va cagate eh stronzane tornare ai mentari guarda è sua il cellular eh guarda è sua il cellular eh guarda è sua il cellulare eh guarda qui è creativo e bel camo eh no ma è un roba del 100 euro guarda adesso costa 150 il cellulare L'Italia ha vinto i mondiali! Chi sei dai? Chi sei dai? Oh, che cazzo fa? È da casa mia, eh? Da casa tua? Da casa sua, ti ammazzo quel cane Ah, c'è invece il brigatto Siamo giocati a due minuti e quaranta Due minuti e quaranta E Nando se fa dei padini Milz, 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 where is the milz? Beh, beh Milz! Basta Milz, where is the milz? Oh, che c'è? Oh, che c'è? Oh, che c'è? via 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.